Siamo qua alla conferenza stampa, la prima conferenza stampa del Summer Jamboree, abbiamo freschi di stampa due manifesti che sono la punta dell'iceberg, le punte degli iceberg del prossimo Summer Jamboree. Allora abbiamo Jerry Lee Lewis, venerdì 24 agosto, e poi niente po' di meno che Dita Vontiz, sabato 25 agosto, e queste sono due dell'equipe, poi abbiamo anche un elenco di band infinita, le leggo tutte? Mai. Dalla conferenza stampa del Comune di Senigallia del Summer Jamboree è tutto.